Buongiorno a tutti. Oggi vi parlo oltre che in veste di Assessora alla Salute anche come infermiera impegnata quotidianamente ad affrontare questo maledetto Covid-19. Sono fermamente preoccupata per la decisione da parte del Governo di autorizzare le passeggiate con i bambini, se non strettamente necessarie. Non è assolutamente il momento di abbassare il livello di guardia. Questo significherebbe vanificare tutti i sacrifici fatti fino adesso. Vi prego, fate ancora questo sforzo, che so perfettamente essere un grosso sacrificio per tutti, ma solo così potremmo riprenderci in mano più velocemente la nostra vita e la nostra quotidianità. Rimanete a casa. Grazie a tutte quelle persone che sono coinvolte ad affrontare con sacrificio questa pandemia, ai sanitari, alle forze dell'ordine, ai volontari. Grazie ancora a tutti. Rimanete a casa.